Revolution è stata al Computex 2017 grazie ai nostri sponsor Gigabyte, G-Data e Patriot. Controllate i link in descrizione per saperne di più. Ben ritrovati ragazzi, siamo qui al Computex 2017 e siamo alla suite di Patriot. Che tra l'altro è anche sponsor del nostro Computex 2017. Oggi il protagonista principale della suite è il nuovo USB headset stand, ovvero un poggiacuffe con USB hub integrato. Oltre a questo nuovo headset stand, molte delle nuove periferiche sono state annunciate oggi. Come ad esempio tutta una serie di SSD, microSD, flash drive e tutto ciò che concerne il lato flash storage. Oltre ovviamente a mostrare un paio di prototipi per le nuove RAM che porteranno LED nella line-up di Patriot. Ovviamente non mancano i prodotti della serie 70, ovvero il mouse 570, l'headset 370 e la tastiera 770 che è una tastiera meccanica con switch Kyle. E ovviamente non manca l'RGB che è come sappiamo già da parecchio il protagonista indiscusso già da inizio 2016. Qui dietro di me vedete un computer che porta un torch, uno spark e un flare, tre SSD di Patriot che occupano fasce di prezzi differenti. E ovviamente le Viber 4, ovvero le DDR4 di Patriot in configurazione da 32GB. Tra l'altro la frequenza è di pen 3733 MHz su quattro moduli vuol dire che si tratta di un'ottima configurazione e ovviamente l'RGB su questa scheda madre esalta il colore perché è stato configurato in rosso proprio come il colore dei headsync delle RAM. Per ora è tutto dalla Sweet Patriot, un saluto da Revolution e al prossimo video. Ciao!